Siamo tutti pronti ad aiutare il prossimo, specialmente noi volontari. Da dove vieni? Da San Benedetto del Tronto. Dall'Indonesia. Da Ucraina. Se tu potessi fare una domanda, Benedetto XVI, quale sarebbe? Cosa dobbiamo fare per essere più cristiani e per aiutarci l'un l'altro? Un po' meno di guerre, forse. Io aspetto che il Santo Padre ci insegna come risolvere questo problema di oggi, andare incontro ai giovani, ci dà ancora un altro incoraggiamento, si dice, per lavorare e per una sfida proprio oggi a trovare i giovani in questo mondo. Che mi dia un po' di salute, che non ce l'ho più, perché la pace nel mondo, tanta, tanta pace.